anche io alle mie feste di compleanno invito sempre un cavallo anche perché sono persone simpatiche cavalli sono fanno battute tenga compagnia rallegra la serata o vai ecco lo zio che è arrivato abriato già il pomeriggio per mettersi davanti che glielo posso dare il pane io posso dare il pane ma di solito non mangiano il pane ma vada io ma io ma io mangio mangi qui ci 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 plus plus grande che cavallo ragazzi ma soprattutto da dove l'hanno fatto passare perché la porta di fare un po piccina ma guarda guarda ricordare per te appoggio che lo sciottino ma vai lo piglio un collo lo piglio un collo ce la fa lo tengo lo tengo vai fammi la foto vai oh grande che cavallo ragazzi ho io ho io fernando ho io e bocca a fernando per le terre ma poi ma perché invitare un cavallo a una scena perché tanto voglio dire che non si diverte mia ma poi che gli fanno da mangiare tagliolini paglia e fieno perché vai aspetta la rifò eh ora lo piglio per bene si va per dire io sono a volte ho fatto a schiaffi con leone allo zocco lo stai vittoriano manca pomeriggio comunque un leone ma che scherzi aspetta aspetta lo piglio meglio vai vai fernando piglio meglio poi dopo si fai il brindisino vai 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 si va io non ce la poche di capire cavallo un po e raccoglie non ne può più questi questi giù lasciamo fare commenti o vai pigliamo niente aspetta eh stava a vedere sì ma io che ti ma io ragazzi con la valis sono sempre andato vada vada me lo tengo ma ma perché ma mi dici ma che botta è taitricos o vai o ha disfatto tavolo tavolini seggio di viso a quello ridugnosa il finale era prevedibile e poi te lo porto fuori vado in meglio perché gli agitavo non gli entrava in calore eh perché gli entrava in calore gli ha sentito una cagnolina e fuori e non è un cane è un cavallo ti ha sbagliato ah come ah no ho come un cane o io credevo fosse un cane pensavo fosse una lana ma nemmo appesta invece ti c'è un cavallo e allora